Ben ritornoschio, ben ritornoschio, guardate un po' Tipi di persone, ve l'avevo promesso e lo guardiamo Sempre del bravissimo Milkaier Milkaier, Milkaier, Milkaier Bravo, un bravo uno che ci sa fare Ce ne ha fatti molti anche, ne ha fatti Quindi potremmo vederne anche degli altri Per ora ci gustiamo tipi di persone Rappresentate in Minecraft Vediamo la prima, musica rilassante Numero 6, ecco, quante ne ha fatte? Ce ne sono delle altre? Urca Eh, vediamo questa prima, vediamo Allora, il veterano di Minecraft è la prima Il primo tipo di persona Beh, non mi sembra così veterano I veterani fanno il portale con la Perché non gli sapre? Perché la sbaglia Che è? Non lo capì Che sta a fa' Sta a fa' un altare di Herobrine? E mi sa di sì, perché quel portale Ma che era quella ormai? Mi sto confondendo, eh Questa mi sa che non la sto capendo, però Neter Reactor Core Questo è un blocco nuovo che io non so neanche bene a che fa' Non sono un vero veterano, mi sa Che è successo? Che è successo? E che è successo? E che è successo? E che è successo? Non ho capito Che? Me lo spiegate voi? Ah, il terrapiattista Questa è paga Lo sapevo io Voi lo sapete che paga Cioè, non lo so se lo pensa davvero Però Secondo me sì Vediamo che fa E beh, su Minecraft in teoria La terra effettivamente è piatta, eh Mi sa che su Minecraft c'ha ragione Mannaggia Chi l'avrebbe mai detto? E che gli è apparso Una porta misteriosa È entrato nel mondo della terra rotonda pure su Minecraft Sbugiardato anche lì Sapevo io Adesso Adesso piange Fa il forever alone nel suo mondo piatto di Minecraft Quello che ha paura del buio Ecco Allora, aspettate un attimo Sono io Sono io Lo dico Non è che me ne vergogno Non è che mi nascondo È importante Dire Affermare Confermare Di essere Ognuno ha le sue paure Cioè, voi per esempio Quando vi alzate la notte Per andare in bagno Che è buio in casa Non vi portate il telefono Per illuminare i meandri della casa? Se non lo fate Siete coraggiosissimi Ma io lo faccio Eh Mica Metti che poi c'è un mostro Che lurca nelle tenebre E io non lo vedo E ci sbatto contro Invece così lo vedo E gli do un pugno in faccia Avete capito? O scappo A seconda di quanto è grosso Andiamo avanti Andiamo avanti Dai che è meglio Che è successo? Ehi Che Si è rotto tutte le cose? Che Non sento più Perché Ah ma che paura Mi sembra Non c'era la musica Mi ricordavo che c'era la musica Mi stava confondendo Illumina casa Beh giusto Ha paura del buio E la pepina Eh ma ma Ha riempito tutto Ma Pure gli alberi Gli alberi sono di glowstone E il tronco degli alberi Sono silantern E ha messo una torcia Sopra ogni singolo blocco Beh Non arrivo a questi livelli Però Che Non può spawnare un mostro Praticamente Tutto torce Il giocatore di fortnite Oh no Oh no Che cosa gli farà fare? Sta giocando Una freccia Si triggera Tira fuori il fucile Ha visto il nemico Che sta a fa? Ah sta costruendo La scala è infinita E beh si dai Bene Sta arrivando in cima al cielo Ok E' azzeccatissimo Però eh E adesso Niente E' finita così Beh Beh certamente Il villager mica Lo poteva seguire Bello Persone che non sono iscritte Vediamo E questo potrebbe applicarsi Anche a noi Vediamo Vediamo Quelli erano quelli non iscritti E sono uguali Eh no eh Mamma mia Eh giusto Allora Aspettate eh Allora Voi che non vi siete iscritti Sia a questo canale Che a quell'altro Non siete così Carini però Un po' secchetti No Non molto Non molto fit Avete capito Non molto muscolosi Invece Chi si è iscritto Diventa istantaneamente Cioè non è che c'è bisogno Di allenarsi Dice la palestra No no Tu praticamente Ti iscrivi al canale E tu Ti vai a guardare allo specchio Prima eri col primo modo Poi dopo Diventi così Enorme Capito che devi camminare così poi E tutti quando passi Dicono Oh che grosso E se una ragazza Dicono Oh che scolpita Che formosa Capito E tutto è facile Quello Troppo ossessionato Che si chiama Stan Su Minecraft È un modo di dire No Vediamo che fa Stan L'ossessionato Avrà tipo una stanza Dove scrive Il suo diario Come quelli che trollavamo Vi ricordate Noi ne avevamo beccati Un paio così Mi mancano i troll E i grief Più i troll Era spassoso Potrebbe essere Una delle prossime serie A tornare Chi lo sa Comunque questo Stan Ha una stanza Una caverna In cui è tantissima È la sua ossessione Questa caverna Che cosa ha portato Qua dentro E ci sono degli avatar strani E poi Forse ha tipo I costumi degli youtuber Che gli piacciono di più Fanfiction 107 Scrive le fanfiction Su Minecraft Indirizzi Indirizzi di chi? Ha rubato gli indirizzi Degli youtuber Che gli piacciono E poi Una canzuncella Canzuncella di che? Questa non so che sia Sì che lo so che è È la canzone Delle speedrun Non ho sbaglio Mi ricordo eh Poi potrei sbagliare Però Chi è questo? Questo non lo so che è Potrei essermi perso Alcune cose però A grandi linee Il ragazzino vizia Se voi lo sapete Chiaramente me lo scrivete Nei commenti Che alcuni di voi Sono molto più expert Avete capito Questo qui chi era? Che me lo son perso Il viziato Ah che mette la Questa ve l'ho rovinata Perché ci ho parlato Troppo sopra Però Vedete? Mette la cassa bonus Voi la mettete? Dite la verità No Non si mente Non c'è bisogno di mentire La mettete la cassa bonus? L'avete mai messa la cassa bonus? Io una volta l'ho messa la cassa bonus Più di una Però poi non mi è piaciuta Perché non c'è dentro niente Cioè è povera la cassa bonus Non vale la pena Capito? Poi metti la cassa bonus Ti senti pure di aver citato E invece non hai fatto niente Il sociopatico Eh questo è bruttissimo Chi è? Mi sa che ho capito Non mi dire che fa quella cosa Alla pecora però eh Se fa quella cosa Alla pecora Bisogna dissociarsi Ho imparato questa cosa È importante Ho stoppato per sbaglio Scusate Che è sta roba? Io non so fare niente Con la redstone Quindi Però mi Cioè No Non è quella Con la pecora Però Ma è crudelissimo Cioè vedete La lava non riesce a scendere Perché lui la tappa Con la TNT Che però non si accende Perché non si accende Ma era Era veramente Folle Porca miseria se lo era Era inquietante Ce ne sono molti altri Però io a questo punto Scusate un attimo Ma Cioè se veramente Ce ne sono altri E sì che ce ne sono altri Avere successo Eh no Una pubblicità Anche qui Anche qui le pubblicità Già mi bastano sulle app Però eh Eh mamma mia Eccole qua Tipi di persone numero tre È sempre suo E lui è il bravo Non c'è niente da fare Non lo frega nessuno Lui è the man Su questo genere di cose Il ricco Vediamo il ricco Dai Non abbiamo tempo Per vederlo tutto questo Però forse Ma Vediamo l'inizio Il ricco Eh Fa il portale a metà Il ricco No Non è il ricco questo Il ricco avrebbe usato Tutti i blocchi O sbaglio È che Ah Eh Eh sì Infatti Vedi È giusto È certo Il ricco Mette i blocchi Fa il portale intero Il povero Invece gli angolini Li lascia voti Il brutto E la peppina C'è anche il brutto Che fa il brutto Questo Devo dire Più bello quello di prima Però A vedere dall'inizio così Eh Il brutto non lo vuole Il cane non lo vuole E lo guarda pure male Eh beh Non è che puoi piacere a tutti No Sono gusti Vabbè Fermiamoci qui Vicky Ne abbiamo visti abbastanza Casomai la prossima volta Riprendiamo da questo Oppure no Chi lo sa Per questa volta Lion out Da